Domani, sabato 18 giugno, arriva a Pesaro per la prima volta il Marche Pride. Dalla Palla di Pomodoro a Viale Trieste fino a Campo di Marti di Baia Flaminia sventoleranno le bandiere arcobaleno per quella che intende essere una straordinaria occasione di unione e condivisione sulla base di valori quali la lotta all'homo-lesbo-bitransfobia ma anche dell'antisessismo, l'antirazzismo e l'antifascismo. Il Marche Pride di fatto ha avuto un solo precedente nel 2019 ad Ancona prima di riproporsi con un'edizione ridotta in tempo di pandemia. Ora a Pesaro dove il 18 giugno sarà il culmine di un mese e mezzo di iniziative culturali. È importantissimo per diversi motivi. Sicuramente è una questione anche politica, politica nel senso alto del termine ovvero che le persone LGBTQ e i loro alleati scendono in piazza per un'altra volta manifestare i diritti che in realtà ci aspetterebbero semplicemente perché siamo esseri umani come tutti gli altri quindi di fatto il diritto ad esistere e a poter avere una vita dignitosa come tutte le altre persone e di potersi unire ad esempio in matrimonio come tutte le altre persone con la persona ovviamente che abbiamo scelto per noi. E non solo, ecco, ci sono tante questioni che riguardano ad esempio il lavoro penso ad esempio soprattutto alle persone trans e alla difficoltà del non avere documenti rettificati ad esempio eccetera nella ricerca del lavoro, nelle carriere anche universitarie eccetera quindi c'è tanto che abbiamo da dire, ci sono tanti motivi ancora per cui fare un Pride proprio perché non esiste purtroppo un'uguaglianza tra le persone LGBTQ e le persone invece cisgene eterosessuali in questo paese e in realtà non esiste ancora in nessuno quindi in questo purtroppo meno ancora rispetto al resto dell'Occidente e è importante per questo ed è importante anche però per semplicemente dire che si è condividere chi si è nella pubblica piazza visto che una volta il fatto di far parte di una minoranza sessuale significava dover rimanere nell'ombra in questo caso invece la possibilità è un'altra ed è quella di rivendicare chi si è appunto alla luce del sole ed è anche perché no una festa Il Marche Pride di Pesaro partirà in mattinata dal comune dove ci sarà una conferenza con esponenti politici regionali e la presentazione del libro Fuori i nomi di Simone Alliva nel pomeriggio il raduno alle 16 alla palla di pomodoro e poi la partenza in corteo Fina Baia Flaminia dove il gruppo del Marche Pride si ritroverà fino a sera in una sequenza di interventi L'assessore comunale Camilla Murgia ha invitato tutta la città a partecipare ad una giornata di grandi rivendicazioni culturali e politiche una politica che si è scontrata in queste settimane sul mancato patrocinio della regione Marche al Pride Prima di tutto sicuramente Pesaro e non solo diversi comuni quelli di Fano e appunto non solo hanno patrocinato il Marche Pride e ci hanno sostenuto nel caso di Pesaro principalmente poi in parte anche di Fano ma anche a livello finanziario insomma soprattutto per quelli che sono gli eventi culturali del Pride Per quanto riguarda quello che è successo con la regione Marche diciamo che in parte forse ce lo aspettavamo penso che in realtà la regione Marche abbia utilizzato un escamotaggio una scusa di tipo diciamo amministrativo di regolamentazione e regolamento in realtà per dire di no a una manifestazione che semplicemente non condividono da un punto di vista politico la norma a cui fa riferimento la regione era già in vigore nel 2018 noi abbiamo fatto il primo Marche Pride nel 2019 e il precedente governo della regione ci ha dato il patrocinio quindi perché questa volta no quando invece il garante dei diritti della persona della regione Marche o anche la commissione per le pari opportunità tra uomo e donna che sono enti regionali comunque ci hanno dato il patrocinio grazie a tutti